San Dionisio, Vescovo di Parigi, fu uno di quegli uomini apostolici, i quali con la loro predicazione portarono il lume della fede nelle Gallie. Predicò da principio il Vangelo in più luoghi e città di quel regno. Prese in sua compagnia e per suoi coadiutori nel Ministero della Parola un santo prete, per nome rustico, e San Eleuterio di Acono. Con essi si avanzò sino alla città di Parigi, e qui vi fissò la sua dimora. Molto ebbe ad affaticarsi il santo Vescovo per la coltura di quella vigna affatto incolta e feconda soltanto di triboli e di spine. Confortato però ed assistito dalla Divina Grazia, cominciò ad annunziare a quei miseri le verità di nostra santa religione, ed essendosi degnato il Signore di confermare la predicazione del suo servo col dono dei miracoli, molti ne ridusse alla cognizione e al culto del vero Dio, onde, cresciuto il numero dei fedeli, edificò una chiesa nella quale si radunavano a lodare il Dio e a celebrare i divini misteri. Gravemente da ciò irritati fecero arrestare Dionigi con i due suoi discepoli, ed avendoli dapprima sottoposti a vari tormenti, in ultimo posero termine al loro glorioso combattimento col farli decapitare. Si narra che Dionigi avrebbe portato la propria testa dopo la decapitazione avvenuta nell'île de la Cité da Montmartre, che vuol dire appunto Monte del Marte, Martirio, a Saint-Denis, per una via che fu poi detta Rue de Martir, consegnandola infine ad una nobile romana, Catulla, la cui famiglia era proprietaria di quel territorio. O Signore che concedeste ai vostri santi la forza di affrontare i più atroci supplizi, fate che, per loro intercessione, possiamo confermare la nostra fede, perseverare fino alla fine e finalmente meritare la corona di gloria. Così sia.